Si continua a parlare della riforma cartabbia ma con un po' di preoccupazione per gli avvocati. Allora oggi nel convegno affronteremo la riforma cartabbia riguardante la materia condominiale, quindi il contenzioso sul condominio e le modifiche che entreranno in vigore in seguito alla riforma cartabbia il 30 di giugno. Quando si parla di riforma cartabbia molte cose ancora non si conoscono. Assolutamente no, infatti noi avvocati siamo particolarmente preoccupati per le novità introdotte dalla riforma. Per molti versi tanti di noi hanno la sensazione di essere ritornati ai momenti in cui abbiamo iniziato la professione quando dovevamo imparare gli strumenti processuali. Ci sta impegnando molto e ci impegnerà ovviamente anche per la formazione dei professionisti alla quale ovviamente sia il Consiglio dell'Ordine che le varie associazioni forensi presenti sul territorio sono molto molto attenti. Perché si parla di riflessioni sulla deontologia dell'avvocato? La riflessione sulla deontologia dell'avvocato è fondamentale per la nostra professione, soprattutto adesso con la riforma cartabbia perché dà una disciplina quella che è la nostra professione a quelle che sono i comportamenti tra gli avvocati, i colleghi e i clienti. In questo convegno oggi avremo il piacere di ospitare tra gli altri illustri relatori anche il magnifico rettore dell'Università Auge, il professore Giuseppe Catapano. Insomma dobbiamo dire che il pensiero degli avvocati è quello di tenere informati anche i cittadini e di capire che in una situazione di questo genere bisogna in qualche modo avere la forza e il coraggio di scegliere il sistema migliore. Assolutamente sì. Gli ordini professionali che sono presenti sul territorio sono particolarmente attenti a coadiuvari, ad assistere i cittadini nelle varie tematiche che gli interessano. Sia l'ordine degli avvocati ma anche l'ordine degli architetti che è particolarmente attivo sul territorio negli ultimi anni si stanno entrambi occupando di dare maggiore assistenza ma maggiore informazione al cittadino soprattutto in matere come i vari super bonus, i cosiddetti aiuti statali che dovrebbero sollevare un attimino l'economia territoriale. Cavaliere Rocca parliamo di questo convegno, è un convegno importante, è un convegno interessante e diciamo che c'è la volontà anche di far capire ai presenti quanto sia in questo momento la riforma cartabbia ben lontano dall'essere compresa e accettata. Come dice lei la cartabbia con le sue novelle sta veramente mettendo un po' in discussione tutto. Anche noi dell'università stiamo studiando bene la riforma cartabbia e voglio dire una cosa oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere il rettore dell'università AUGE, il magnifico rettore che è il professor avvocato Giuseppe Catapano dove lui è molto afferrato su questa riforma cartabbia. Noi siamo qui giusto come università a suggellare, cioè a dare una mano a questa cartabbia.